Presentato a Leporano il cartellone estivo 2021. Rivivi l'estate Leporanese, si legge sulla brochure di presentazione. Quasi un messaggio di speranza, il desiderio di tornare ad assaporare l'estate di un tempo. Questi spettacoli chiaramente si terranno nella massima accortezza, quindi rispetteremo tutte quelle che sono le norme anti-Covid previste. Quindi vogliamo offrire una serie di spettacoli ai nostri concittadini, ma a tutti coloro che vorranno venire nella nostra bellissima Leporano dalla provincia e anche da fuori. Assessore, come sarà questa estate 2021 a Leporano? Ci sono appuntamenti a livello culturale, di spettacolo, teatro, musica, presentazione di libri, sport, animazione per bambini. Abbiamo una manifestazione per quanto riguarda il 22 di agosto, per quanto riguarda Donna dei Due Mari, che è un premio all'eccellenza femminile, è stato in pari all'archeologia, per spettacoli importanti, quale Clementino e anche Daniele De Martino. Un ricco programma di eventi a Leporano che terrà compagnia sino al 18 settembre ed in cui non mancheranno i festeggiamenti in onore del Santo Patrono. La festa del Santo Patrono, che rappresenta sempre nell'estate leporanese, è un momento importantissimo, non solo per la nostra comunità, ma anche per i tanti che vengono a passare qui le vacanze. Quest'anno cercheremo di fare qualcosa in più rispetto a quello che si è potuto fare l'anno scorso, grazie anche al piano di vaccinazione che è stato portato a compimento, a vasto raggio.